Bene ragazzi, quello che conto è troppo veloce, sbricati! Bene ragazzi, qui sei in salute con i Grananas e oggi giocheremo a FIFA 15 con il Tapiru Land. Eh? Non sto a fare male. Per acquistare i crediti FIFA a basso prezzo andate su fifacoinsland.com con il codice GRANANAS avete l'8% di sconto. Alla praticamente cosa faremo? Giocheremo a FIFA contro e ogni volta, cioè uno di due sarà sottotapiru l'anno, una volta a tempo, iniziavo il primo tempo, al secondo tempo c'è stato io e ogni gol che fa colui che sta sottotapiru l'anno aumenta la velocità di 1. Quindi partiamo. Partiamo da 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5, bene così. Intanto non abbiamo mai giochato a FIFA 15, quindi 15, quindi 15. Non sappiamo come si gioca. Oh, è qualcosa di più. Subito, dentro c'è il tiro! Oh, 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 oh! Oh, gran tiro! Che tiro che era? Mamma mia! Come si gioca per te il Milan? e' un po' abbastanza stancante c'è il tipo il fiaduore ma che c'è il titolo Lambert? ma non è Lambert non corre ma piacchio io sto tipo camminando corri più ti che Lambert vai grande ancora il tiro ma che tiro di merda fai no c'è troppo merito t'ho detto ma a me mi sta a venire il fiaduore santo dio rientrata il tiro ma ti ha preso no si non c'è un po' allen 1 1 1 1 1 1 1 1 rosso 1 ciao attenzione all'ultimo secondo potrebbe andare a finire 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 10 10 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 farà un caso per capire un mondo ma se ne guarda bene con i nazi mamma mia grande come corretari nazi ottimo tutto il campo si è fatto nazi e aumenta di 0.1 così a spreggio fanculo qua fa la differenza a 0.1 mamma mia che giocatore quando si dice è tutto il giornale di videogiochi e si può fuori guarda fa la passeggiore ma non si può fare questa roba del giocatore che si dice l'attività fisica cazzo al video gioco grande o agguero agguero il tiro è molto acce mignone vaffanculo 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 ora non mi ha visto il tiro passato ma che siamo scemi vaffanculo 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 prossimo vaffanculo chiunque sia il gol no vaffanculo vaffanculo come se ne va per finta ma dove vai si scherzi non ce l'hai mamma mia la sua grazie signore grazie grazie vaffanculo 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 che si aumenta 0 20 20 22 sessi k MU oh 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 dai, 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 su eh, aspetta tu modifica la formazione dai, tu eh, no, vai qua, c'ho un espulso che che è di qua, eh Diego, ma sai che spettacolo mettiamo gli overwich poi il tuo grandigno stu cazzo, vai dai, su vabbè, aspetta, metto, 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 metto metto, 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 metto vai, apposta ehi, ehi, vai vai, corri, corri, dai, faccia una famiglia, corri corri oh, 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 oh non è possibile giocare così, se riesco a farlo così, vedete rispettare i soldi ce n'è spam lo vede lo vede, lo vede, gli overwich, altri due altri due per Daryl altri due per Daryl mamma mia che ti porco due ma non sa come si è dai, è troppo croce così vai 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 bella palla mi bucio che culo fiala no finisce qui finisce qui finisce qui no, ma che merda è ah caro, devi rigenerare piano piano, dire se è cinque, poi quattro, poi tre così adesso mi sembra niente ragazzi questo video se vi è piaciuto duemila mi piace facciamo un altro episodio magari, che ne so, portiamo frax e di ci proviamo proviamo così a fargli fare un po' di corsette o, lanciamo anche la sfida a God's Red si vai ce gli va quindi niente ragazzi vabbè parlo io ragazzi mi raccomando passate sulla pagina facebook perchè potrete trovare tutti i posti ricordanti di questa sfida altre sfide lui saltella ancora perchè c'ha il movimento profondo del sangue mettete like commentate se volete condividete il video dai canales è tutto da lui che sta proprio in forma se vede è proprio una roccia è tutto bella mi sembra lei su di The Show è bella uguale